Ciao a tutti in questo nuovo video di horror ospital 2 dove ci ospita a fare la partita ovviamente questa è pubblicità che dà nessun numero ecco ragazzi ah questa è la storia ovviamente questa è la rottura di scattola che chiama sempre ripetitiva bene da fastidio ok ci siamo dentro ragazzi al gioco realmente ci sentono i fischi di una laurea sicuro ok c'è una moto qua ragazzi siamo la moto? no ok entriamo dentro vediamo cosa ci può accadere stiamo camminando ragazzi entriamo in questo cancello che non so dove cavolo porta ma ci saranno sicuramente un fantasma o qualcosa eh ragino va bene ok ci sono i fantasmi tipo mi hanno fatto paura però ragazzi facciamo i furti ok allora vediamo qua ci vuole la chiave perfetto è tipo grandi ragazzi questo gioco però è più serio aspetta ragazzi che abbassiamo un po' così magari ci vediamo di più ecco vedi che vedete di più e vedo anch'io di più ho abbassato un po' la zona ok ragazzi sono praticamente in un cimitero allora la chiave dove la possiamo trovare? ok piano piano eh come i visuali non è male anche come gioco non è male lo dovrei portare più spesso se volete ovviamente anche voi va bene va bene ok ti è staccato un pezzo di muro così improvvisamente qua cosa c'è? vogliamo entrare? no c'è tipo un qualcosa che ci blocca carino comunque qua cosa c'è? allora entriamo da questa parte e vediamo cosa c'è può essere qualcosa di ecco la chiave ok ci abbiamo una chiave adesso vediamo ah qua cos'è questa cosa? non è tipo una lampadina ok qua no ok abbiamo preso una chiave e sicuramente la porta per entrare da quella parte che abbiamo visto ok oh cacchio oh io non stop vabbè ragazzi questa partita è finita così non posso distruggere ragazzi mi sta colpendo da dietro ah ma dimmelo prima corriamo e vabbè chi è? superman facciamo il giro per il cimbiac e ovviamente corri iniziamo salve a tutti io sono Fumagalli e oggi vi mostrerò come aprire una bottiglia di vino con una semplice zucchina sembra impossibile se non venite con me ragazzi manana manana wow sembra entrati un uovo vabbè vabbè siamo entrati tipicamente questa casa abbandonata dove ci sono dei quadri ok bel quadro è lei che è stato sparato al petto non è un uovo vabbè vabbè donato ok siamo ancora c'è un uovo è molto bello ok questo è l'uomo cosa deve essere e e cosa possiamo trovare di bello qualche chiave ok abbiamo trovato la chiave magari qua ci sono altri oggetti che ci potrebbero servire durante... ok perché non mi sposto? ok una persona nuda che viaggia nelle estremità cos'era? va bene... qua cosa c'è? qua non posso aprire... vediamo dove... si va bene ma... qua non posso andare... vediamo da questa parte dove ci porta... è una chiave... un'altra chiave ragazzi o ci serve per aprire questa porta? no... qua no... quindi non è da questa parte... cerchiamo una porta... ok vediamo un pochettino... qua... qua... si... però non c'è niente di... cerchi... non la posso aprire... non la posso aprire... ora possiamo andare da questa parte... vediamo un pochettino qual è la porta... ora questa è la porta... ok... non lo so... da verità cosa devo fare... abbiamo ricoperto la chiave... ma non sappiamo dove andare... va bene ok... ciao... buongiorno... che vuole un cappuccino... una pasta... un caffè... qua ricordiamoci che c'era la chiave a parte qui da nulla... molto... inquietante... molto... allora vediamo un pochettino... va bene ragazzi a questo punto che non sappiamo cosa fare... dobbiamo cercare al secondo episodio la porta in cui... ci fa scoprire... un mondo... particolarmente... dell'ospedale nuovo... ok ragazzi se il video vi è piaciuto... iscrivetevi al canale... e attivate la campanellina... delle notifiche...